Buongiorno da Cattolica, siamo con il signor Roberto Benedettini che è il titolare dell'hotel Esperia qui appunto in centro a Cattolica. Buongiorno signor Roberto. Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti voi. Benissimo. Signor Roberto, il vostro hotel è prettamente stagionale, per cui ha le caratteristiche dell'attività estiva prettamente. Esattamente, noi apriamo già comunque da Pasqua e facciamo tutti i weekend e poi per la stagione estiva siamo aperti appunto da fine maggio fino a metà settembre. E il vostro hotel che tipo di servizi offre per il cliente? Diciamo che il ventaglio d'offerte parte proprio dalla camera e colazione, mezza pensione, pensione completa e da quest'anno anche una inclusive. quindi la pensione completa. Abbiamo quindi colazione, pranzo e cena, il tutto con menù a scelta, quindi la varietà di pesce, carne, verdure al buffet. Ecco, teniamo molto alla qualità del cibo perché il cibo viene dal territorio e insomma anche ad esempio il semplice dessert che noi forniamo a fine pasto lo facciamo in casa, quindi è tutto a produzione. Perfetto. Siete in una ubicazione, in una location centralissima ma nel contempo anche molto tranquilla perché è una via trasversale tra la via centrale dello shopping ma anche delle passeggiate serali e lungomare. Per cui diciamo siete equidistanti. Questo è un vantaggio comunque per voi? È un vantaggio importantissimo, infatti Roberto noi ci troviamo a 20 metri dall'isola bedonale e appena 100 metri dalla spiaggia. A pochi passi dall'acquario di Cattolica. Per cui diciamo cliente può venire e lasciare la macchina e muoversi anche solo o esclusivamente a piedi qui così. Esattamente, la macchina se la deve dimenticare, la parcheggia comodamente nel nostro parcheggio, può andare in centro tranquillamente un quarto d'ora a piedi e si trova appunto nel centro cittadino di Cattolica dove si svolge la vita della città e dove ci sono anche alcuni eventi piuttosto importanti, insomma, che si... Eventi anche musicali, no? Musicali, esatto. Esatto, qui ci sono tanti concerti durante il periodo estivo, per cui è un'attrazione sotto tutti i punti di vista. Benissimo, vogliamo dare i dati per potervi contattare, eventualmente prenotare? Certamente, i nostri futuri ospiti possono contattarci direttamente dal nostro sito internet, quindi le canoniche www.esperiacattolica.com oppure semplicemente telefonarci allo 0541 96 13 99. Perfetto, ringraziamo il signor Roberto Benedettini, vi aspettiamo qui a Cattolica all'Hotel Esperia, punto da Cattolica è tutto, a voi studio. Grazie mille e arrivederci a presto.